Il Movimento 5 Stelle, nello specifico, ritiene illegittimo l'affidamento degli impianti sportivi alla linea informatica SRL, poiché comporterebbe minori entrate per il Comune di Teramo, non ridurrebbe significatamente alcuna spesa ed è basato su di un bando urgente, predisposto e poi modificato dalla Giunta Comunale nel settembre 2013. Il Comune, infatti, si sta privando degli utili derivanti dalla gestione degli impianti senza avere nulla in cambio. Noi pensiamo che questo sia assolutamente un affidamento in danno al Comune di Teramo, poiché si continua a prevedere che il Comune paghi tutte le utenze a questo privato che andrà ad acquisire la gestione di tutti e cinque gli impianti comunali. Inoltre si dà sempre la possibilità a questo privato, che è appunto una società SRL, di comunque lucrare perché si dà la possibilità di gestire un punto ristoro durante le manifestazioni sportive, gli si dà la possibilità, secondo l'articolo 22 di questa convenzione, di poter organizzare attività ludiche, quindi al di fuori dello sport e quindi sempre di poter acquisire e introitare gli incassi derivanti da queste manifestazioni. Ovviamente tutto ciò senza versare una lira per quanto riguarda gas, energia o telefono. Ecco, questa è una cosa assolutamente assurda, poiché la gestione viene tolta alle società e il Comune si priva di un introito anno che per adesso si attesta, nel 2013 si è attestato attorno ai 48 mila euro. Quest'anno ci sono stati dei problemi che abbiamo rilevato e in quest'anno si è incassato solo 6 mila euro e quindi noi pensiamo che questo bando così com'è non sia regolare. e invitiamo il Comune a agire in autotutela e quindi far pagare a chiunque gestisca questi impianti almeno il 50% di tutte le utenze. Noi abbiamo fatto un calcolo che le utenze costano al Comune di Teramo circa 540 mila euro. Questi costi vengono riversati nelle tasche dei cittadini attraverso le tasse.